Buongiorno e benvenuti in questa video intervista con Giusy Montervino, General Manager di Rindway, un e-commerce che vende pelletteria fatta a mano e prodotta in Italia, un'eccellenza che ci racconterà oggi come è nata la loro avventura online e come sono cresciuti, come hanno fatto nascere i loro e-commerce. Ciao Edison, prima di rispondere alla tua domanda, permettimi di ringraziare te e lo staff di e-shopping advisor per aver scelto Rindway come esempio di storia aziendale da raccontare. La nostra azienda nasce con l'avvento e la diffusione dell'e-commerce. Da generazioni a partire dagli anni 70, la nostra attività è stata quella della vendita di pelli per abbigliamento. Successivamente, al fine di sfruttare le potenzialità del mercato online, abbiamo deciso di creare un nostro brand, dando vita così a Rindway.it. Il progetto che ha portato alla nascita di Rindway parte dall'idea di sfruttare al meglio le risorse materiali e le competenze professionali presenti nel territorio in cui operiamo. La nostra azienda infatti si trova a Solofra, un paese dell'Irpinia, da sempre conosciuto come Volo Conciario di Eccellenza. La possibilità di ripetere materie prime di alta qualità, unita alla bravura dei rinomati artigiani che lavorano nel nostro territorio, ci ha spinto ad investire in un'azienda in grado, proprio grazie all'innovazione nella distribuzione creata dall'e-commerce, di portare la tradizione del fatto a mano in Italia, in ogni parte del mondo. I primi riconoscimenti del grande valore dell'idea di cui volevamo essere portatori ci ha spinto a lavorare negli anni sempre più duramente. Abbiamo cercato materiali sempre più appreggiati, abbiamo affinato le tecniche di produzione, ampliato il catalogo prodotti che oggi vanta circa 250 modelli diversi, e infine abbiamo curato i canali di distribuzione e di comunicazione, e tutto questo per far arrivare la nostra tradizione il più lontano possibile. Giuse, dici, quindi avete solo un e-commerce o avete anche un negozio fisico? La nostra azienda è strutturata esclusivamente online, quindi vendiamo soltanto tramite il mercato elettronico. Raccontaci Giuse, in che cosa siete differenti da altre realtà e-commerce, e perché secondo te un cliente dovrebbe scegliere proprio Rindway? Rindway è specializzata nella produzione di capi di artigianato in vera pelle, come tu hai già anticipato prima. La nostra è un'azienda smart, giovane e dinamica, ma il vero punto di forza è sicuramente rappresentato dal territorio. Come ho detto prima, la nostra azienda nasce nella città della pelle. Proprio l'operare in un luogo in cui la cultura della pelle ha sempre padroneggiato consente a Rindway, magari rispetto anche ad altre aziende concorrenti, di reperire con maggiore facilità solo materie prime di alta qualità. Dopo la lavorazione siamo noi stessi a selezionare i materiali più pregiati, più morbidi e naturali da destinare alla nostra clientela. Affidiamo pertanto le pelli alle mani dei nostri rinomati artigiani, che lavorano ogni capo interamente a mano. Una vera e propria arte, insomma, grazie alla quale la qualità è assolutamente garantita. Bravi, veramente, complimenti. Giussi, voi avete scelto i servizi business di Shopping Advisor. Quali sono tre motivi per cui avete scelto il Shopping Advisor? Guarda Edison, con il lancio del nostro brand e con il susseguirsi delle vendite, ricevevamo quotidianamente numerose mail e telefonate di apprezzamento del prodotto ricevuto. Così abbiamo pensato che tali manifestazioni rese pubbliche potevano rassicurare, spingendoli all'acquisto, nuovi potenziali clienti. Per questo abbiamo scelto il Shopping Advisor, innanzitutto perché è una piattaforma interamente italiana. In secondo luogo perché fin da subito abbiamo trovato, da parte dei manager che abbiamo contattato, grande disponibilità. Hanno chiarito ogni nostro dubbio e hanno fornito consigli che nel tempo si sono rivelati assolutamente validi. Infine perché il Shopping Advisor rappresenta un vero e proprio canale di vendita. Sulla piattaforma, infatti, recensioni a parte, è possibile mostrare il proprio catalogo al pari di tutti gli altri marketplace. Questo chiaramente ci ha permesso di raggiungere una maggiore visibilità e conseguentemente di ottenere un incremento delle vendite. Grazie veramente per il tuo feedback, Giusy, perché ci piace veramente l'aiutare i piccoli made e-commerce italiani come il vostro. Sapendo che voi vendete un prodotto da indossare, volevo sapere in che modo riuscite a convincere i clienti del fatto che il prodotto sia veramente di alta qualità, sia veramente di pelle e fatto in modo artigianale. Sì, sicuramente bisogna essere bravi a far capire, ovviamente anche tramite il sito, che quindi non ha forma fisica e quindi non permette chiaramente al cliente di avere subito cognizione della qualità del prodotto. E per questo abbiamo scelto i servizi di e-shopping advisor, proprio perché abbiamo pensato che le recensioni lasciate da altri clienti sulla qualità del prodotto, sui dettagli che lo caratterizzano, potevano in qualche modo portare insomma una maggiore conoscenza anche da parte di nuovi clienti, quindi per far conoscere maggiormente e per assicurarli nell'acquisto. Voi ormai avete la vostra esperienza online, quindi volevo sapere Giusy se hai qualche consiglio che vuoi condividere con la nostra community, magari degli errori che avete fatto in passato e che vorresti far evitare ad altri e-commerce che stanno creando il loro business online. Sicuramente il consiglio che mi sento di dare è quello di affidarsi sempre a professionisti del settore, al fine di creare un business plan che sia adeguato alla propria attività. Per questo mi sento di consigliare vivamente i servizi di e-shopping advisor, dove noi affiliati non rappresentiamo soltanto un numero, ma siamo piuttosto membri di una comunità nella quale è possibile trovare alta professionalità e competenza. Volevo aggiungere a Edison che prima dell'inserimento dei badge di e-shopping advisor venivamo spesso contattati dai potenziali acquirenti che volevano in qualche modo essere rassicurati sulla qualità del prodotto. Ad oggi possiamo dire che più aumentano le recensioni e sempre meno riceviamo questo tipo di richieste. Tramite sistemi di analisi attivi sul nostro sito posso dirti che grazie a e-shopping advisor abbiamo avuto un incremento delle vendite di circa il 35% da quando lo stiamo utilizzando e più o meno parliamo di un arco temporale che varia di un anno e mezzo. Wow Giuse, complimenti veramente bravi per questa crescita del più 35% sulle vendite per una realtà che sta ancora crescendo insieme a e-shopping advisor. Siamo veramente felici di essere al vostro fianco in questo. Immagino quindi che in futuro vogliate inserire dei certificati che garantiscano all'utente finale la bontà dei vostri prodotti, magari dei certificati che garantiscono che i prodotti siano di pelle vera e di fatti da artigiani italiani. Raccontaci che cosa farete in futuro. Proprio in questo periodo, proprio in questi mesi stiamo valutando la possibilità di inserire certificazioni del prodotto. Questo al fine proprio di garantire la provenienza degli stessi, al fine di far comprendere la qualità dei prodotti in maniera che l'acquirente sia in grado in qualche modo di differenziarli rispetto a quelli che magari non presentano le stesse caratteristiche perché evidentemente, come dicevi tu, magari sono fake rispetto a quelli che mettiamo noi in vendita. Bene, ottimo. Questo aumenterebbe sicuramente il valore dei prodotti che vendete online, proprio perché ho visto che avete prodotti sia per donna, uomo e accessori, tra cui anche una sezione outlet nel sito. Ci rivolgiamo ad un pubblico sia maschile che femminile, con un catalogo prodotti di circa 250 modelli, come dicevo prima. Pertanto è possibile scegliere il modello che più si preferisce, scegliendo anche una fascia di prezzo che sia in qualche modo rapportata alle proprie possibilità. Abbiamo diversi capi a diversi prezzi differenti, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti e per consentire a chi voglia di poter in qualche modo indossare il nostro capo. Ottimo, Giusy. Quindi è l'occasione perfetta per i nostri clienti per provare e comprare i vostri prodotti sul sito rindway.it. Hai messo a disposizione dei nostri clienti un coupon che possono utilizzare per fare il loro primo acquisto? Sì, infatti fin da subito, grazie ai consigli di Francesca, di Shopping Advisor, abbiamo attivato nella piattaforma un coupon sconto che potete utilizzare anche voi che ci state ascoltando, che ci state leggendo. Il coupon sconto è sconto10. Inserite il coupon e riceverete subito uno sconto di pari a 10 euro sul vostro acquisto. Grazie veramente, Giusy. È stato un piacere intervistarti e conoscere meglio Randway. Ci sentiremo per altre interviste e andremo a scoprire altre realtà eccellenze italiane che stanno crescendo insieme ai Shopping Advisor. Grazie a tutti e grazie a te, Giusy, per il tuo tempo. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.